Più 10% delle domande di quattordicesima e più 20% per i supplementi di pensione. È positivo il bilancio della sperimentazione del Consulente Digitale delle Pensioni, il nuovo servizio IMSS che facilita il riconoscimento dei diritti inespressi dei pensionati, e cioè tutte quelle prestazioni collegate all'assegno che però devono essere richieste esplicitamente dagli interessati o non vengono fornite. Vediamo insieme di cosa si tratta. Ciao a tutti amici di Radio Uci, io sono Giulia e in questo Focus Previdenza ci occupiamo del servizio Consulente Digitale delle Pensioni, lanciato da IMSS e finanziato dal PNRR nell'ambito del progetto Intelligenza Artificiale. Il nuovo sistema permette di individuare i potenziali beneficiari delle integrazioni, proponendo ai pensionati un semplice percorso da seguire per verificare i requisiti necessari e la presentazione dell'istanza. In questo modo si riduce di molto il rischio di errori nella compilazione delle domande. Per far sì che sempre più persone accedano al servizio, è stata avviata anche una campagna comunicativa multicanale per raggiungere il maggior numero di pensionati. Tutte le informazioni inerenti al servizio sono facilmente consultabili sia sul portale stesso dell'IMS, sia sui profili social dell'istituto. In particolare, per utilizzare il Consulente Digitale delle Pensioni dal sito IMSS, basta scriverlo direttamente sulla barra di ricerca, oppure seguire il percorso Prestazioni e Servizi, cliccare su Servizi e lo troverete sotto la lettera C. Detto questo, io ti ringrazio per aver guardato fin qui. Se il Focus ti è piaciuto, lascia un like e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!